Però nel momento in cui in Europa si verificano cose che offendono la nostra sensibilità, io vorrei ricordare a tutti che noi non possiamo parlare del futuro della nostra Unione, del futuro dell'Eurozona, del futuro delle nostre istituzioni, del futuro dei nostri cittadini. Se non abbiamo la forza e la volontà di difendere i valori fondanti della nostra Unione, si sta insieme, si è parte di una comunità se si condividono i valori. Questo lo dobbiamo sempre ricordare e non posso quest'oggi non condannare fermamente ciò che è accaduto a Roma, in Italia, dove un gruppo di hooligans ha utilizzato l'immagine di Anna Frank per offendere tifosi di un'altra società sportiva. Utilizzare l'immagine di Anna Frank come un'offesa nei confronti di altri è un fatto molto grave. Ognuno nella nostra Unione ha il diritto di essere praticante della propria religione. Le comunità ebraiche fanno parte della nostra Unione Europea. Io sono fiero di avere con cittadini europei di religione ebraica e credo che l'antisemitismo debba restare soltanto una orribile esperienza del nostro passato, un'orribile esperienza del secolo che si è concluso.